benvenuti a questo nuovo appuntamento con docker oggi cercheremo di fare una breve panoramica di questa tecnologia della sua storia e dei vantaggi che ha portato nell'ambito del deployment utilizzando delle slide che ho realizzato in occasione di un altro talk per arti grafiche stampa e web bene ormai mi conoscete sono mauro ciccolella consulente sct sviluppatore freelance opero in full remote e sono sostenitore dell'open source entriamo subito nel vivo del discorso dunque in principio era il ferro ovvero negli anni passati tutti i servizi e le applicazioni giravano esclusivamente su macchine fisiche ora questo non significa che oggi le macchine fisiche siano state abbandonate semplicemente è cambiato il modo di utilizzarle e quindi chiaramente cosa succedeva che ogni servizio che avesse bisogno di un di girare diciamo in maniera del tutto isolata autonoma necessitava di una macchina fisica a sua disposizione quindi c'erano tutta una serie di problematiche legate a questo questo aspetto e cioè le macchine dovevano essere dimensionate con una stima a priori cercando di capire quale poteva essere il carico applicativo chiaramente con dei costi elevati perché bisognava comprare l'hardware o affittarlo o con tutti i costi connessi perché un conto era appunto quello di andare a affittare o comunque diciamo acquistare queste macchine presso i provider altre volte si realizzavano dei data center in casa quindi con altri costi legati proprio ai costi di gestione quindi dall'energia elettrica all'occupazione dei locali alla manutenzione fisica delle macchine al tutti i sistemi di sicurezza da dover approntare chiaramente c'erano poi delle difficoltà dal punto di vista della scalabilità scalabilità che era ovviamente soltanto di tipo verticale cioè con la possibilità di ampliare aumentare le caratteristiche quindi le prestazioni della macchina fisica diversamente da quello che avviene oggi con la scalabilità orizzontale difficoltà proprio nel replicare le configurazioni da una macchina all'altra con tempi di ripristino abbastanza lunghi in caso di guasto e ovviamente con uno spreco di risorse in quanto proprio per quel discorso di stima a priori fatta diciamo così con delle valutazioni che molto spesso non corrispondevano alla realtà c'è il rischio appunto di acquistare delle macchine che poi effettivamente venivano utilizzate solo in una minima percentuale e chiaramente con un'assenza di isolamento delle applicazioni che ovviamente obbligava a diciamo destinare macchine diverse per servizi diversi quindi si è passati alla virtualizzazione virtualizzazione che possiamo sintetizzare senza essere proprio precisi al massimo come con una frase cioè tanti computer che girano su un solo hardware cioè in sostanza c'è un sistema operativo guest come vediamo qui che gira all'interno di un altro sistema operativo host cioè quello della macchina ospitante e quindi viene data la possibilità di accedere all'hardware fisico mediante uno strato software che è detto hypervisor quindi sostanzialmente queste macchine virtuali vedono l'hardware come se fosse a loro completa disposizione in realtà sia la cpu sia la memoria sia i dischi sono appunto condivisi con le altre macchine virtuali macchine virtuali che possono comunicare tra di loro possono comunicare dall'host e quindi diciamo essere accessibili via internet accedere ad internet ed essere raggiungibili da internet però solo se vengono create delle apposite network altrimenti c'è un completo isolamento di queste macchine virtuali questo permette di realizzare il cosiddetto consolidamento dei server fisici che cosa significa che anziché avere tante macchine fisiche differenti si crea un unica diciamo si prende un'unica macchina fisica quindi un unico server e si fanno girare tutte queste diciamo tutti questi servizi diciamo tutti questi servizi si fanno girare su un'unica macchina fisica questo chiaramente con dei vantaggi anche dal punto di vista economico quindi abbiamo un unico hardware chiaramente questo hardware poi è adeguato a svolgere questo compito quindi tipicamente abbiamo a che fare con dei server che sono server ridondati quindi con più alimentatori con dischi ride con quindi diciamo una configurazione in grado di garantire la maggiore affidabilità rispetto a quello che può essere il computer tradizionale con cui eventualmente lavoriamo e in questo modo c'è anche un discorso diciamo di ottimizzazione delle risorse perché a questo punto in qualche modo cerchiamo di sfruttare al massimo la potenza di questo server cercando appunto di far girare quanti più servizi possibili ovviamente con un discorso logico nel senso di gestire opportunamente le risorse non arrivare comunque ad una macchina che è satura e quindi poi non è in grado di garantire le prestazioni richieste ovviamente esistono varie tipologie di virtualizzazione o meglio due meccanismi due modalità di virtualizzazione una che prevede la presenza di un sistema operativo tra l'hardware è chiaramente il layer di virtualizzazione adesso con un esempio capiremo bene di che cosa stiamo parlando è un'altra invece quella tipica per esempio di VMware in cui praticamente lo strato di virtualizzazione poggia direttamente sull'architettura hardware quindi sostanzialmente non c'è un sistema operativo sulla macchina host ecco questa che vediamo è proprio un esempio di virtualizzazione hosted ed è tipico esempio di virtual box che sicuramente avrete utilizzato sulle vostre macchine perché è un software che permette appunto di realizzare la virtualizzazione quindi in pratica sulla macchina c'è un sistema operativo virtual box gira come se fosse un'applicazione come tutte le altre solo che poi all'interno di virtual box possono girare delle macchine virtuali all'interno delle quali c'è un ulteriore sistema operativo qui chiaramente vediamo un esempio diciamo linux più linux nel senso abbiamo un ubuntu sull'host e un ubuntu qui all'interno di questa finestra che sembrerebbe un'applicazione come un browser piuttosto che un programma di videoscrittura ma in realtà questo è proprio un altro computer virtualizzato è una macchina virtuale dicevo ovviamente c'è la possibilità di far girare qui un sistema operativo diverso quindi qui ci potrebbe essere windows oppure qui nell'host potrebbe essere windows che ospita delle macchine virtuali linux quali sono i vantaggi e gli svantaggi della virtualizzazione è chiaro che tra i vantaggi abbiamo l'isolamento delle macchine virtuali perché ciascuna vive un proprio spazio un proprio sistema operativo non condivide sistemi operativi con gli altri questo ci permette chiaramente di far convivere quindi di eseguire contemporaneamente dei sistemi operativi differenti ovviamente diverse anche da quello host e poi la possibilità di emulare varie cpu quindi varie architetture hardware naturalmente ci sono degli svantaggi e gli svantaggi sono essenzialmente legati al fatto che queste macchine virtuali richiedono una certa quantità di risorse quindi abbiamo la necessità di virtualizzare hardware e sistema operativo questo chiaramente pone poi dei limiti a quante macchine virtuali possiamo utilizzare far girare sulla nostra macchina è chiaro che tutto è relativo alla capacità che ha la nostra macchina ovviamente se ci spostiamo all'interno di data center questi data center hanno dei server di enormi dimensioni anche molto costosi e quindi riescono a gestire un certo numero di macchine virtuali e poi chiaramente c'è anche un discorso di prestazioni che chiaramente rispetto a un sistema operativo tradizionale possono non essere adeguate anche qui diciamo dovremmo fare un discorso di relativo nel senso bisogna sempre tener presente quelle che sono le caratteristiche comunque delle macchine su cui andiamo a lavorare chiaro che se prendiamo il nostro computer io ricordo che fino a qualche anno fa per su macchine con 4 giga riuscivamo la pena a far girare una due macchine virtuali già oggi con 16 giga di ram è possibile farne girare due tre poi è chiaro dipende da quanta memoria da quanta quindi da quante risorse andiamo ad assegnare a queste macchine virtuali ed ecco quindi che si arriva a docker docker nasce in un momento storico cioè nel momento in cui vi è la necessità di venire incontro agli sviluppatori nel momento in cui si stava sviluppando il modello di a microservizi cioè la possibilità di sviluppare le applicazioni non più come applicazioni monolitiche ma con appunto struttura microservizi in cui possiamo immaginare questi microservizi come tante mini applicazioni che vanno a interagire tra loro ciascuna svolgendo un servizio diverso volendo fare un esempio molto banale immaginate un software di commerce in cui abbiamo tutta una serie di servizi che vanno dalla gestione del catalogo alla registrazione e autenticazione degli utenti al carrello della spesa ai pagamenti eccetera tutto questo può essere realizzato con una classica applicazione monolitica in cui abbiamo un unico blocco oppure un'architettura microservizi avremo un servizio per gestire il carrello uno per l'autenticazione uno per il catalogo eccetera eccetera che chiaramente poi comunicano tra loro interagiscono tra di loro chiaramente bisognerebbe fare tutto un discorso lunghissimo per spiegare un modello a microservizi vantaggi svantaggi però per esempio uno dei vantaggi fondamentali è quello della scalabilità nel senso che se io ho un'applicazione monolitica e ho la necessità di scalare perché ho bisogno di adattare l'applicazione a quelle che sono le richieste da parte del carico applicativo in questo caso dovrò scalare l'intera applicazione indipendentemente dal fatto che soltanto una minima parte di questa necessiti di scalare chiaramente questo comporta anche dei costi dal punto di vista delle risorse che quindi dovremmo andare ad acquistare invece per esempio in un modello a microservizi ho la possibilità di scalare soltanto quei microservizi che mi interessano addirittura posso regolare diciamo il livello di scalabilità in base al carico dei vari microservizi poi chiaramente ci sarebbero tanti altri fattori da considerare anche eventualmente degli svantaggi perché non non sempre il modello a microservizi è da ritenere diciamo la soluzione ottimale in tutti i casi ci sono delle situazioni in cui ovviamente ancora le applicazioni diciamo vecchio stampo funzionano egregiamente un po come quando si vuol cercare di andare necessariamente in cloud andando a creare delle infrastrutture super complesse super costose quando poi il tutto si potrebbe risolvere con delle soluzioni molto più diciamo semplici anche più economiche quindi tutto ha come dire una sua ragione d'essere che andrebbe studiata e valutata opportunamente comunque insomma con docker noi abbiamo la possibilità di incapsulare le applicazioni all'interno di contenitori che appunto vengono detti container che possono convivere su una stessa macchina che può essere fisica o virtuale questo mette in evidenza il fatto che comunque macchine virtuali e docker non sono in contrasto tra di loro ma possono evidentemente convivere molto spesso quando noi andiamo su internet acquistiamo i famosi vps virtual private server semplicemente non stiamo acquistando diciamo acquistando non stiamo affittando comunque una macchina fisica vera e propria a nostra disposizione ma per esempio una macchina virtuale con determinate caratteristiche che sta girando magari in una macchina fisica insieme ad altre vps diciamo di altri clienti del provider ora docker sfrutta le funzionalità di isolamento del kernel linux nel senso che quindi docker non inventa la ruota sfrutta quelle che erano delle funzionalità che già esistevano a livello di linux ma che erano difficili da diciamo da utilizzare in pratica quindi c'era una proprio una difficoltà semplicemente di utilizzo docker riesce a semplificare tutto questo e quindi chiaramente consente di realizzare questo tipo di isolamento basandosi appunto su quello che il kernel linux in effetti questi container sono isolati tra di loro ma condividono lo stesso kernel a differenza di quello che avviene con le macchine virtuali questa immagine sintetizza un po quello che è la differenza tra docker e virtualizzazione ho scelto un'immagine in cui c'è comunque una virtualizzazione basata su del tipo virtual box quindi in pratica dove c'è un sistema operativo proprio per avere una sorta di parallelismo tra i livelli di livello più basso è l'infrastruttura che può essere un computer un server il cloud poi appunto ci sono i sistemi operativi sia in un caso che virtualizzazione che nell'altro poi nella virtualizzazione troviamo l'hypervisor per esempio il virtual box dall'altra parte troviamo il docker engine dopodiché da una parte abbiamo le macchine virtuali e dall'altra i container e qui notiamo la differenza anche da punto di vista grafico vediamo delle dimensioni diverse perché perché di fatto nell'ambito della virtualizzazione per ogni macchina virtuale troviamo un guest os un sistema operativo differente dal sistema operativo host e poi chiaramente abbiamo tutte le librerie e binari e le nostre applicazioni nel caso del di docker non c'è questo guest os cioè il container è fatto solo dalle librerie dei binari delle applicazioni questo perché perché si utilizza il sistema operativo della macchina host chiaramente questo porta a una serie di vantaggi sono vantaggi appunto legati al fatto di non andare ad utilizzare un sistema operativo differente da quello della macchina host e quindi docker è comunque un cross platform quindi può girare su windows su linux mac os e anche sulle architetture arm tipo raspberry e company c'è un avvio molto rapido perché non bisogna fare il boot di un sistema operativo di un altro sistema operativo rispetto a quello host c'è un impiego più limitato di risorse proprio perché non si virtualizza il sistema operativo e quindi occorre meno ram meno cpu questo significa che per esempio su una macchina si possono far girare molti più container di quante macchine virtuali sarebbe possibile far girare poi è chiaro che anche qui i più pignoli diranno che a seconda diciamo di quelle che sono le risorse che andiamo a segnare perché poi anche i container ai container potremmo assegnare tantissime risorse però in linea di massima in base a quelle che sono le esigenze diciamo dei container che andremo a far girare c'è la possibilità di avere un numero più consistente di container rispetto a quelle che sono le macchine virtuali c'è la portabilità perché poi vedremo le immagini docker hanno all'interno applicazione tutta la configurazione e quindi la portabilità è molto semplice cioè io con la stessa immagine la posso far girare su macchine diverse molto molto rapidamente la leggerezza proprio perché anche le dimensioni delle immagini anche qui ci sarebbe da fare tutto un discorso perché in realtà anche le immagini se non vengono costruite in maniera opportuna diventano dei dei mattoni e quindi ci sono tutta una serie di best practice per la creazione delle immagini andando a diciamo utilizzare le istruzioni in un certo modo un certo ordine partendo da immagini di base limitate chiaramente tutto un discorso che poi faremo in un altro video e poi la scalabilità perché in effetti noi abbiamo la possibilità di creare più container che replicano per dire la nostra applicazione dei nostri microservizi farli girare su più nodi in modo da garantire affidabilità bilanciamento del carico anche se poi qui entriamo in un altro capitolo che è quello di kubernetes per esempio quindi diciamo di tutti i sistemi di orchestrazione chiaramente ci sono anche degli svantaggi che dobbiamo tenere in considerazione cioè il fatto che si dipende c'è una dipendenza dal sistema operativo host e c'è un minor grado di isolamento perché chiaramente si diciamo condivide il sistema operativo della macchina host chiaramente con rischi legati diciamo alla sicurezza se appunto questo sistema operativo non è adeguatamente diciamo messo in sicurezza però in linea di massima l'approccio alla sicurezza e quindi cioè applicare tutte le patch di sicurezza tutti gli aggiornamenti messi a disposizione dovrebbe essere comunque un approccio seguito indipendentemente dal fatto di utilizzare docker o meno quindi andrebbe sempre comunque utilizzato e poi c'è la necessità di essere legati all'architettura della cpu su cui appunto si sta girando in passato per esempio non si poteva addirittura far girare immagini linux su windows oggi c'è la possibilità di fare anche questo grazie al fatto che comunque viene fatta partire una piccola macchina virtuale linux all'interno della quale poi andranno a diciamo girare i container quindi diciamo che oggi queste differenze si stanno assottigliando sempre di più quindi in linea di massima possiamo dire che questi svantaggi sono molto minori rispetto ai vantaggi che si ottengono cominciamo a vedere però qualche concetto fondamentale il primo è il concetto di immagine che abbiamo rappresentato qui ci sono tantissime definizioni possibili cercato di renderlo più semplice possibile quindi immagina una sorta di pacchetto all'interno del quale noi troviamo il codice dell'applicazione ho messo il codice dell'applicazione perché in linea di massima un'immagine può non contenere un'applicazione diciamo che in generale è una sorta di ambiente di esecuzione però poiché parlando diciamo degli sviluppatori perché noi essenzialmente diciamo mi rivolgo a sviluppatori l'idea di creare le immagini è strettamente legata a quella di diciamo containerizzare dockerizzare un'applicazione quindi in linea di massima un'immagine non contiene un'applicazione diciamo nella realtà nel senso nel in un utilizzo pratico dal punto di vista dello sviluppatore l'idea è quella di creare un'immagine dell'applicazione all'interno della quale ci sarà il codice e tutto l'ambiente di esecuzione un ambiente java un php un js con tutte le librerie le dipendenze tutti i vari comandi per l'avvio e l'esecuzione la vediamo qui che è strutturata come una sorta di pila di livelli quindi c'è praticamente una immagine di base da cui si parte che è una sorta di immaginatelo di 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 ambiente appunto di di esecuzione basato non so su un determinato sistema operativo dove poi si vanno ad aggiungere i livelli andando a aggiungere sia tool binari fino ad arrivare appunto dicevo a tutto quello che è l'ambiente di esecuzione fino al codice dell'applicazione poi vedremo qui già vediamo rappresentato un ultimo livello scrivibile rappresentato dal container questo lo capiremo meglio dopo perché in realtà l'immagine di per sé potete appunto considerarla come una sorta di immagine quindi un qualcosa che è a sola lettura un po come avviene con le immagini iso che si utilizzano per esempio delle distribuzioni linux che si usano per per esempio configurare delle macchine virtuali ecco l'idea più o meno più o meno simile parliamo di sviluppo incrementale perché come vedremo una immagine può diventare la base per costruire un'immagine successiva che cosa significa che per esempio possiamo crearci un'immagine per l'esecuzione di applicazioni java quindi ci costruiamo l'immagine ci mettiamo su tutto il necessario potrebbe essere un application server chiaramente una java runtime environment cioè tutto quello che ci serve magari ci mettiamo anche maven se vogliamo utilizzarla anche per compilare quindi per per sviluppo ci costruiamo questo ambiente dopodiché nel momento in cui vogliamo creare un'immagine di un'applicazione java non partiamo da zero partiamo da questo ambiente già pronto gli andiamo a inserire semplicemente quello che il codice della nostra applicazione invece per container intendiamo ciò che effettivamente gira sul computer cioè l'immagine è praticamente una sorta di template di master poi da questa immagine possiamo creare delle istanze ovvero delle copie identiche dell'immagine al momento della creazione poi queste queste copie possono essere modificate perché dispongono di un layer scrivibile che corrisponde allo stato della allo stato diciamo del container lo vediamo qui è questa parte qui che può essere modificata cioè lui noi possiamo modificare i file all'interno del container ne possiamo aggiungere delle altri possiamo rimuovere eccetera eccetera quello che è importante ricordare che questo file system effimero cioè segue il ciclo di vita del container questo significa che a un certo punto se noi distruggiamo il container lo ricreamo tutto ciò che c'è al suo interno si perde ed è il motivo per cui vengono introdotti i volumi infatti i dati importanti non andrebbero mai memorizzati all'interno del container quindi intendiamo database documenti eccetera qualcuno potrebbe dire vabbè ma i database in realtà non vanno containerizzati in realtà si diciamo questo questo è anche vero comunque qui stiamo facendo un po un discorso generale diciamo che in generale tutti quei dati persistenti dovrebbero essere memorizzati al di fuori del container e in effetti qui vediamo le possibilità che abbiamo attraverso i cosiddetti by mount attraverso i volumi ma anche attraverso il tempo rari file system mount allora questo questo tmpfs diciamo che utilizzato molto raramente per casi molto particolari perché permette di salvare i dati nella memoria e che chiaramente non è persistente in realtà quello che si fa è memorizzarli sul file system della macchina host e qui abbiamo due possibilità o utilizziamo i by mount cioè utilizziamo delle cartelle che sono condivise sul file system dell'host si usano soprattutto in fase di sviluppo ma non solo che sono però modificabili da chiunque in realtà questi by mount possono essere cartelle che si trovano ovunque invece i volumi danno un controllo maggiore perché perché sono tecnicamente sono delle cartelle anche queste solo che si trovano all'interno del file system sempre della macchina host ma in un'area particolare questa denominata docker area e quindi sotto il controllo dei diciamo del processo docker cioè in realtà qui non ci possono mettere mano processi non docker e quindi questo significa avere un controllo maggiore tra parentesi nei by mount noi abbiamo la necessità per esempio di andare a specificare il path quindi dove si trovano fisicamente e questo può creare dei problemi nel momento in cui spostiamo diciamo la nostra infrastruttura da una parte all'altra quindi dobbiamo ricreare la gerarchia delle cartelle altrimenti si rischia di avere dei problemi viceversa i volumi vengono gestiti direttamente da docker quindi poi vedremo vengono referenziati con dei nomi e quindi questo significa che li possiamo diciamo trasferire da una parte all'altra senza particolari problemi e possono essere condivisi tra più container e cosa importante che loro ciclo di vita indipendente da quello del container cioè nel momento in cui un container viene rimosso viene eliminato i volumi continuano ad esistere devono essere eliminati esclusivamente con dei comandi specifici quindi in pratica con la consapevolezza di eliminarli questo proprio perché bisogna proteggere dei dati che sono preziosi parliamo anche del networking quindi abbiamo detto che in linea di massima i container sono isolati e questo chiaramente perché altrimenti non avrebbe senso tutto il discorso che stiamo facendo non possono comunicare tra di loro in realtà possono uscire su internet abbiamo quindi la possibilità per esempio di fare degli aggiornamenti ma non possono essere accessibili dall'esterno a meno che non si vadano ad esporre delle porte di rete in modo tale da avere un accesso controllato ovviamente la comunicazione come avviene deve avvenire poi attraverso un l'infrastruttura di rete su cui andiamo a girare con degli opportuni network driver in realtà vedrete vedrete che diciamo nel momento in cui si sta la docker su una sulla propria macchina compare una interfaccia virtuale come c'è la eth 0 tipicamente parliamo di linux ci sarà la docker 0 o come c'è la wifi 0 ci sarà anche la docker 0 che è una sorta di interfaccia di rete virtuale che da una parte appunto si collega ai container più precisamente alle network questi oggetti di docker che permettono di diciamo di creare un interfaccia di una infrastruttura di comunicazione dall'altra invece si interfacciano con l'infrastruttura di rete vera e propria della macchina host chiaramente qui abbiamo la possibilità per esempio di creare delle network dove andiamo ad agganciare i vari container per permettere la comunicazione tra i container che sono collegati una certa network quindi di default c'è una network che appunto si chiama default a cui si attaccano tutti i container questo significa che tutti i container ne posso comunicare tra loro in realtà si possono poi creare delle network custom e decidere quali container devono essere agganciati per poter comunicare tra di loro fino ad arrivare a un ad avere anche dei container che sono perfettamente isolati e che quindi non sono accessibili ripeto l'accessibilità invece avviene attraverso le porte quindi diciamo con un controllo capillare passiamo ora alla creazione delle immagini docker file il docker file l'ho definito un programma per la costruzione immagini in realtà un termine un po diciamo abusato l'ho messo tra virgolette perché in realtà non è un vero e proprio programma è una sequenza di istruzioni che dicono a docker istruiscono docker su come deve creare queste immagini quindi quella che è la struttura delle immagini passi per realizzarla quello che è bello diciamo sicuramente è molto utile vantaggioso è il fatto che si tratta di un file di testo quindi lo possiamo editare con un qualsiasi editor di testo su qualsiasi macchina non dobbiamo installare nessun ambiente non dobbiamo compilare nulla e chiaramente poi in questo file andremo a inserire una serie di istruzioni è chiaro che qui in questa introduzione non posso elencare tutti i comandi poi troverete sul mio canale anche una serie di video che ho fatto sui vari sulle varie istruzioni anche perché alcune possono creare qualche difficoltà richiedono qualche approfondimento in più comunque concettualmente qui che cosa vediamo che si parte attraverso la from da un'immagine di base e poi attraverso dei comandi run si può modificare questa immagine in questo caso noi andiamo a fare degli aggiornamenti per esempio i classici aggiornamenti dei pacchetti poi andiamo per sempre di installare un server nginx andiamo ad esporre la porta 80 andiamo ad eseguire un comando che avviene nginx sostanzialmente una volta creata questa immagine c'è un comando build che permette di creare l'immagine immagini che quindi è disponibile sul nostro computer che eventualmente può essere salvata in un registri pubblico privato pubblico come docker hub oppure privato da cui poi può essere scaricata per essere appunto utilizzate in realtà noi abbiamo due possibilità o utilizziamo un'immagine andandola a scaricare come dire pre compilata da un registri oppure ci prendiamo il docker file e la compiliamo direttamente sulla nostra macchina volendo possiamo prendere questo file di pochi byte lo passiamo un nostro collega lo mettiamo su github dove vogliamo trasferiamo via post elettronica e diciamo l'altra persona il nostro collega può replicare la l'immagine andando appunto ad eseguire questo docker file sulla sua sulla sua macchina ecco un accenno anche a docker compose che permette di gestire un'infrastruttura docker con veramente con pochissimi comandi ho messo tre comandi che sono il docker compose build down fondamentalmente l'idea qual è che i container si possono avviare con serie di comandi troverete sul mio canale anche un video nelle pillole di docker in cui parlo appunto dei comandi principali per creare container avviarli eccetera però che succede nel momento in cui io devo creare un'infrastruttura un po più complessa beh un'infrastruttura un po più complessa quindi che richiede più container che richiede un'infrastruttura di rete che richiede volumi eccetera e seguire diciamo queste istruzioni manualmente insomma non è il massimo perché c'è un rischio di errori molto elevato e poi dover ripetere appunto questi comandi anche fare degli script può non essere la soluzione adeguata perché perché essenzialmente uno script non ci permette di capire a colpo d'occhio come è strutturata diciamo come è fatta l'infrastruttura diciamo docker che stiamo utilizzando comunque che stiamo realizzando e adesso lo vedremo con l'esempio capiremo meglio e poi chiaramente dobbiamo definire delle dipendenze dobbiamo definire un ordine di avvio e poi chiaramente che cosa succede che dovremmo creare uno script per tirare su l'infrastruttura è uno script per distruggerla in realtà con docker compose che altro non è se non praticamente un file il nome è un tool che si chiama docker compose il file che andiamo ad utilizzare di default si chiama docker compose punto yaml ma gli possiamo dare qualsiasi altro nome l'importante è che poi lo andiamo a specificare nelle opzioni della riga di comando quando appunto andiamo ad avviare il docker compose l'idea che con questo file yaml noi descriviamo la struttura l'infrastruttura docker e questo file può servire sia per crearla sia per distruggerla cioè un docker compose app legge questo file e costruisce l'intera infrastruttura analogamente un docker compose down distrugge tutti gli oggetti che sono stati creati quindi non dobbiamo duplicare il codice non dobbiamo avere diciamo due script ne basta uno il build ci permette addirittura di compilare anche le immagini quindi può essere molto utile quando andiamo a realizzare delle delle diciamo in fase di sviluppo dove praticamente noi facciamo delle modifiche al codice sulla nostra macchina se fare il build viene creata l'immagine e poi viene tirata sull'infrastruttura con docker compose ed eccolo qui il docker compose è un file di testo in formato yaml formato che sicuramente conoscete perché si utilizza molto spesso in tantissimi linguaggi di programmazione proprio per definire tutto quelli che sono i file di configurazione proprietà eccetera come vediamo rispetto a quello che potrebbe essere un file di uno script con i vari comandi docker è molto leggibile è portabile a delle dimensioni contenute infatti se noi guardiamo qui vediamo subito che di fatto questa è un'infrastruttura di un'istanza di wordpress quindi sostanzialmente utilizza wordpress utilizza mysql dei volumi un volume proprio per poter salvare tutti i dati di mysql viene impostata la modalità di restart dei container always questo per far sì che se il container ha dei problemi se riavviamo diciamo la macchina su cui sta girando docker i container vengano appunto riavviati in automatico ci sono tutte le variabili d'ambiente per poter configurare in questo caso il mysql è chiaro che questa non è la soluzione ottimale perché qui stiamo facendo una configurazione arcoded mentre normalmente questo andrebbe fatto o con delle variabili d'ambiente lette da un file .evo o addirittura utilizzando i secrets comunque diciamo poi in ambiente di produzione ci sono delle best practice da utilizzare però evidentemente questo file è molto leggibile cioè tutti i services che vediamo qui uno si chiama db uno si chiama wordpress capiamo subito da che immagine su quale immagine è basata quali porte sono esposte il database non espone porte perché chiaramente comunica con wordpress e quindi l'utente accederà semplicemente al wordpress e quindi come vediamo tutto viene tutto molto molto semplice bene nel precedente slide va beh c'era un esempio di installazione di wordpress per ragioni di tempo oggi non faremo perché abbiamo già diciamo ci siamo già abbastanza dilungati voglio solo concludere con un po di risorse utili chiaramente se voi andate su internet di docker trovate di tutto di più sicuramente video migliori di questo di questa mia semplice introduzione molto più approfonditi tantissimo materiale in tutte le lingue possibili immaginabili comunque vi rimando come al solito alla documentazione ufficiale questo vale in generale per qualsiasi tool per qualsiasi strumento per qualsiasi linguaggio di programmazione se poi volete trovare qualcosa anche in italiano ho messo riferimento appunto al mio canale che sicuramente conoscerete o magari conoscete oggi per la prima volta se volete potete chiaramente iscrivervi c'è proprio una playlist dedicata a docker che si chiama pillole di docker ce n'è un'altra docker in pratica in cui vengono in qualche modo affrontate delle diciamo delle situazioni pratiche quindi si analizzano situazioni di utilizzo di docker in pratica e poi voglio anche come sempre segnalarvi un libro perché al di là di quella che la documentazione si può trovare in linea di quelli che possono essere i video sicuramente i libri testi hanno ancora il loro grande valore esistono anche in questo caso tanti testi segnalo questo testo in italiano dell'apoggeo scritto da serena sensini che si intitola sviluppare rilasciare software tramite container se volete avere informazioni in più anche su questo libro vi lascio il link ad una recensione che ho fatto proprio su questo testo bene per il momento è tutto spero che questo video anche se abbastanza lungo vi abbia potuto dare una idea di massima di che cos'è docker se volete approfondire potete come dicevo seguire i video che sono presenti sul mio canale e ci vediamo la prossima volta per parlare ancora di docker grazie